God Save the Wine, siamo in un locale, in un posto creativo come è quello appunto il cinema, la moda e il vino che si accompagna, i puristi storgono un po' il naso perché il vino è un pochino più serio della moda del cinema ecco, il problema è che non diventi serioso, no? E quindi ecco, siamo con Andrea della tenuta di Canneto, siamo a Metastara Fabogra e Cassaneto Carducci quindi una zona dove la creatività di una nobile famiglia ha creato tutte altre prospettive per il vino in particolare ecco però, tenuta di Canneto dove siamo? Il posto merita di essere raccontato diciamo che è un triangolo, Bolgheri, Castagneto Carducci e Canneto è nell'interno quindi siamo dietro la prima cresta, sui 300 metri di altitudine sorge Canneto appunto questo borgo di 18 poderi dove diciamo la creatività è stata mettere l'uva perché non c'era l'uva? No, in origine no, diciamo che è stato fatto uno studio, il terreno si è rivelato veramente adatto il clima è bello perché è fresco d'estate, ventilato e piacevole e quindi è stato deciso dieci anni fa mettiamo giù la vigna perché la vigna appunto è bello mettere la vigna però chiaramente non è che su tutti i vostri ettari sono una piccola parte no alla fine al vigneto perché non è che da dire tutto diventamente vigneto no 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 sono solo 30 ettari vitati su più di mille di tenuta quindi questo è un dato che diciamo conoscendo mi aveva colpito insomma ma come con mille ettari in quella zona solo 30 vuol dire che evidentemente devono essere degli ettari un po' speciali abbiamo scelto veramente i 30 migliori per poi mettere le varietà più giuste, più drenati, più ventilati insomma i 30 ettari più belli sono dedicati alla vigna questo appunto è il vostro santa barbara che è il vostro vino principale diciamo la nostra creazione per rimanere in tema di creatività ecco questo che ricorda effettivamente quelle zone no cioè questi profumi di resina, di macchia mediterranea, questo bosco un vino un po' scuro ma anche molto squillante che però in bocca è molto più fresco di quello che fa presagire il naso perché a volte a bologheri questi profumi si ottengono facilmente ma la pesantezza è dietro l'angolo no 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 questo mantiene sia la complessità di un bel rosso pieno e tutto però è nello stesso tempo fresco, gradevole e non è mai troppo pesante ecco poi un'altra cosa particolare che fate voi questo sparo di creatività il San Giovese in bianco no? com'è venuta quest'idea? è venuta quest'idea appunto rimanendo sulla creatività sempre è venuta quest'idea dire ci manca la vigna lì è tutta bacca rossa mi hanno detto proviamo a fare un bianco da cosa lo facciamo? proviamo da San Giovese che è quello che si prestava alla fine tra tutte le varietà che sono impiantate quello che si prestava forse di più e quella è un po' una chicca è talmente una chicca che come vedi non c'è più però effettivamente perché siete fra i pochi ma io vi assicuro che l'ho assaggiato a Vinitaly piacevole, fresco, sapido vale la pena andare a cercarlo e vale la pena andare a trovarli seguendo la creatività o seguendo i buoni vini grazie Andrea grazie, grazie a te grazie